Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite una band heavy metal, parliamo sempre di metal, poi ogni metal ha tante sfaccette, ma parliamo ovunque di heavy metal. In Logical Terror abbiamo ospite un membro della band, Giulio, e a questo punto prima cosa, quando nasce, la prima domanda è sistemica, quando nasce la band, ma soprattutto per quale motivo ha questo nome? Allora, la band diciamo che nasce nel, parliamo di anno di creazione, 2008, in realtà è stata una fusione di un progetto già esistente dove io e altri membri facevamo parte ed eravamo appunto in studio per scrivere e preprodurre il nostro, quello che doveva essere il nostro primo album. In coincidenza di questo momento era, la band aveva bisogno comunque di rinforzi, diciamo, comunque di integrare membri nuovi e necessari per portare live i brani e questo ha fatto sì che ci ritrovassimo con musicisti della scena che già conoscevamo, eravamo comunque amici e conoscenti, loro erano attualmente chi fermo, chi in stand by e dal momento che lavoriamo con lo stesso produttore è nata questa occasione di integrare, quindi formare la band al completo, avere più possibilità, perché appunto parlo anche della del secondo cantante, che è colui che assieme a me adesso è rimasto, diciamo, del nucleo principale che ha lanciato questo progetto e abbiamo terminato la scrittura, la registrazione di quello che poi è stato il nostro debut album, quindi Almost Human, pubblicato appunto un po' in l'anno successivo, nel 2009, e da lì è nata appunto la prima formazione dei Logical Terror, che uscimmo con sei membri nella line-up, due chitarre, basso, batteria, appunto le due voci e il nome voleva essere semplicemente una metafora, un modo per esprimere quello che era sostanzialmente l'approccio e la reazione che doveva essere dell'ascoltatore nel momento in cui si trovava a fronte ad esaminare quello che era la nostra musica e questo appunto perché unendo molti elementi, soprattutto a partire dal primo album, elettronica, chitarre pesanti, batterie ritmiche di un certo tipo, due voci che spaziano molto, questo ci permette di inserire molti elementi e questo doveva essere un po' una forma di di terrore psicologico che l'ascoltatore magari già dal nome poteva aspettarsi qualcosa di assolutamente più estremo, in realtà non lo era, o il contrario, ecco, cercare di creare anche subito dal monica era un contrasto importante che rappresentasse quello che è la nostra band e la nostra musica. E poi appunto citato tanti generi perché in realtà è la metal, ma in realtà c'è tante influenze che si trasformeranno nel nuovo lavoro che sta in lavorazione. Parliamo di un progetto che è in lavorazione e che sicuramente darà tanta energia e state dando tanta energia. Cosa ci racconti in questo caso non del disco ma della produzione nello studio? Quanto è frenetica in questo momento perché poi l'uscita è imminente. Sì, il nuovo lavoro è in uscita il prossimo 12 maggio, ma in realtà già dalla prossima settimana uscirà il primo inedito e sarà seguito da un singolo al mese fino appunto alla data di uscita dell'album. E per noi trovarci in studio è veramente il momento che aspettiamo da sempre, da quando iniziamo a lavorare su nuovo materiale, intanto perché ci permette comunque di lavorare assieme, perché siamo molto dislocati come membri, quindi non abbiamo la possibilità di vederci ogni giorno, comunque ogni settimana. E poi soprattutto è il momento in cui si dà forma alle idee, le vivi e le senti nel migliore dei modi, nella sua migliore espressione, quando sei appunto in studio, a stendere i brani, a produrli, a farli suonare al massimo. E quindi lì è un momento che anche in sala prove o comunque a livello personale non riesci a vivere nello stesso modo in quando sei lì. Quello assolutamente, sì. del nuovo lavoro, non dicendo come è composta, ma già avete l'idea della copertina, già è stata impostata, che è l'autore, tanto l'autore si potrà dire, però come nasce quella copertina, anche senza dire che cosa c'è nella copertina. Assolutamente, la copertina ovviamente è già pronta, l'autore si chiama Stefano Mattioni, in arte Viron 2.0, è un artista delle nostre parti, un nostro amico molto talentuoso, ed esprime quello che è di fatto il titolo dell'album, che lo possiamo rivelare, è Side of the Unknown, quindi i lati dell'ignoto, e quindi sarà una rappresentazione figurativa del lato dark e del lato umano che si incrociano e hanno questa sorta di interfacciamento. a questo punto, nella realizzazione dei brani, nascono prima le parole, nasce un riff, nasce un beat, qualcosa che poi dopo da lì, poi nasce oppure nascono accidentalmente insieme? No, assolutamente, il processo solitamente è sempre partito dalla musica, quindi è chiaramente da da demo, non diciamo a caso, ma insomma le prime idee che arrivano, più ovviamente evoluzioni delle stesse e brani nuovi che vanno un po' a completare l'opera nel momento in cui si ha una visione completa di ciò che di ciò che accade, quindi ciò che manca. E da lì ovviamente poi sulla parte strumentale vengono stese, scritte le parti vocali che siamo soliti prima registrare, diciamo, con un finto inglese e poi andiamo a scrivere quelli che sono i veri e propri testi nella lingua, poi quella che è originale. Quindi questa è, diciamo, la sequenza in cui nascono le nostre canzoni. Un po' all'Adriano Celentano e quando faceva l'Americano Macronico. Assolutamente, ma funziona, quindi prendiamone altro. E nella realizzazione dei brani, la collaborazione del vario gruppo a volte è sempre ottimale oppure a volte c'è una discussione un po' più accesa che alla fine il brano comunque vada a capire che in fondo quella discussione è stata utile per ottenere un brano veramente ottimale. Sì, è chiaro che vengono prese delle decisioni, quello è, penso sia naturale, insomma, in tutti i contesti, in tutte le band, però solitamente arriviamo ad avere un'armonia tale che ci permette poi effettivamente di capire che il risultato vale la pena di magari escludere un brano piuttosto che un altro, una parte scritta da uno piuttosto che un altro, ma in totale armonia assolutamente, perché poi il risultato paga e siamo tutti contenti. Nella realizzazione dei testi, prima cosa da cosa tra le ispirazioni, ma soprattutto nell'utilizzo dell'inglese, tenendo presente il genere in musica, è più facile scrivere in inglese oppure, in alcuni casi, scrivere il testo in italiano e poi trasformarlo in inglese. Beh, sicuramente non è un processo facilissimo, diciamo, comunque essendo che non ci definiamo e non siamo madrelingui, quindi chiaramente le difficoltà ci sono. Però diciamo che permette diverse soluzioni, chiaramente noi partiamo da un concept che nella nostra storia ogni album ha avuto con una forma diversa, ma questo fondamentalmente viene deciso ogni volta in base a cosa decidiamo di parlare nell'album nuovo e a volte anche magari qualcosa ci ispira la musica che creiamo, quindi il contesto musicale magari ci porta più su un mondo piuttosto che un altro di volta in volta. Però sì, partiamo da un concept italiano un po' generico, poi ovviamente su quelle che sono le linee scritte, diciamo, grezze, andiamo ad adattare il contesto in italiano con un vero e proprio testo in inglese, cercando di mantenere, diciamo, gli stessi suoni che utilizziamo nei demo, quindi parole e suoni che hanno determinate vocali, un determinato sound, cerchiamo poi con l'inglese di andare a cercare le parole giuste per esprimere quel concetto là, ma cercando di mantenere quel suono che ci piace, che è stato creato prima, quindi non è proprio, diciamo, non è una traduzione letteraria dall'italiano all'inglese, ma diventa una traccia sulla quale puoi andare a costruire un testo che si aggancia alla preproduzione. Quindi non è facilissimo, chiaramente, se non si è completamente padroni dell'altra lingua, per cui è un bel lavoro che comporta sicuramente tempo, attenzione, e non ci nascondiamo che abbiamo anche comunque chiesto l'aiuto poi in fase finale per una revisione chiaramente da qualcuno che è magari madrelingua originale per non cadere in errori grossolani. Chiaramente voi avete suonato già dal vivo, salire sul palco e i vostri concerti non sono musica classica, cioè dove gente sta a sedere e si gode la musica ascoltando con clerica, al del silenzio, quel silenzio, però salire sul palco e vedere inizialmente, oltre che poi è buio perché avete le luci, avete i frastuoni, però inizialmente un silenzio che poi parla, perché a volte quel silenzio parla, ma poi quell'energia che da sotto inizia con quel rumore, quel brusio che poi cresce, quell'energia, quell'onda, perché è un'onda che vi trasmette sul palco e voi la ritrasmettete con la musica, con i vostri suoni. Quale sensazione provate, quale emozione provate? Beh, sicuramente ti dà adrenalina, questa è l'emozione che provi, in primis, poi chiaramente la vivi di situazione in situazione, perché c'è quella volta dove il pubblico magari interagisce e è caldo da subito, ci sono quelle situazioni dove lo devi scaldare e lo devi attrarre a te, perché magari non ti conosce, quindi sei tu che devi coinvolgerlo e non è il pubblico che ti coinvolge, quindi sono ogni volta situazioni da capire fondamentalmente sul momento, da viverle, da metabolizzarle e da ritrasmetterle, perché appunto non siamo una band famosa dove automaticamente ogni volta che vai sul palco sai che il pubblico è lì per te, che appena sali sul palco e dici una parola esplodono, quindi devi essere bravo a capire la situazione e non lasciarti abbattere, se sono quelle serate dove magari non dico non vieni apprezzato, ma magari non sei conosciuto, quindi hai bisogno di quasi tutto del live per arrivare a interagire con il pubblico e probabilmente all'ultima canzone hai la condivisione, ma questo non devi farlo passare come una cosa negativa, ma anzi devi cercare di accorciare il tempo di reazione del pubblico il più possibile, devi essere tu propositivo, positivo e bravo a trasmettere questo. e anche questo ti dà adrenalina perché se ci riesci e ci riesci nel minor tempo possibile chiaramente stravolgi quella che è la reazione del momento e da lì tutto un po' prende una piega diversa, quindi è bello anche quello, anche riuscire magari in situazioni, in serate dove non sei tu la band protagonista a coinvolgere il pubblico, anche se appunto magari all'ultima canzone, ma ad uscire nell'intento di arrivare, ecco quello è importante perché poi magari succederà la seconda volta o in un altro momento, quindi è sicuramente un'emozione, ogni volta non ti dico come se fosse la prima volta, però è sempre una sfida nuova, questo sì, questo sì, perché non sai mai cosa può succedere, soprattutto anche dopo la pandemia dove è cambiato un po' il modo anche di vivere il live del pubblico, sicuramente bisogna riportare la gente fuori e fargli tornare la voglia di venire ai concerti e di viverli senza paura e questo noi siamo il primo veicolo per riuscire a farlo, la nostra energia, la nostra carica, la nostra voglia di fare attrazione per la gente che ci viene a vedere. E qualche tuo collega diceva, prima di salire sul palco avevo quella sensazione di dire, prima sentivo un po' di frenesia ma poi dicevo ma chi me lo fa fare? E poi quando salivi quelle scalette e ti si apre quella quarta platea, perché nel teatro si chiama quarta platea ma nel tuo spettacolo è quella, a quel punto capivi per quale motivo stavi lì e ti divertivi. Ma poi scendendolo al palco, la gente che ti incontra, oltre a farti domande tecniche, chiaramente poi c'è qualche musicista che cerca la domanda tecnica, ti hanno fatto mai domande più emozionali o qualcosa di particolare sulla realizzazione di testi o domande che in realtà non ti hanno fatto perché la persona davanti non è stata capace di farti perché forse era emozionata, però tu gli hai dato una risposta che in realtà l'hai resa felice perché nel suo viso hai capito che forse hai indovinato anche la sua risposta, non t'abbia fatta domanda. Guarda, una situazione del genere onestamente forse no, però posso dirti che ci è capitato soprattutto in situazioni all'estero dove le piccole cose hanno reso felici entrambi, ovvero semplicemente anche solo a fine concerto venire all'angolo merch a comprare magliette CD, fare però una foto e chiederti l'autografo e eravamo contenti noi e vedevamo loro esplodere di gioia in una cosa sostanzialmente, in un gesto sostanzialmente molto piccolo, però questo devo dire che qui da noi spesso e volentieri non accade e quindi anche queste sono state piccole situazioni che però sono state molto belle, ci hanno fatto vivere quella scintilla, quell'emozione proprio vera per un gesto molto piccolo che non è magari appunto come dicevi tu una risposta a una domanda ma semplicemente un autografo e una foto che non te l'aspetti perché sei abituato a semplicemente uno scambio di saluto o sì, comprare il merch bravi, uno scambio di complimenti finita lì, mentre quello è proprio più un riconoscimento da entrambe le parti perché tu fai felice una persona e loro con un piccolo gesto ti fanno felice anche tu questo. Come viene vissuta la musica all'estero rispetto all'Italia? Il live, un pochettino tutto quello gira intorno al live, secondo te c'è differenza tra il mondo italiano e l'estero che hai vissuto? Beh, per quello che abbiamo vissuto, parliamo comunque di mondo underground, c'è una sottile differenza probabilmente sull'approccio di chi viene al concerto, ovvero viene perché ti vuole venire a vedere ma non ci capita per caso, come a volte purtroppo dobbiamo dire in Italia. Nel senso che a livello underground noi da quello che posso vedere in giro spesso e volentieri diventa quasi un passatempo, andare a un concerto, vedere chi c'è e poi finisce lì. Non tutta la gente che c'è a fine esibizione magari viene a interagire con il gruppo perché non era quello l'obiettivo principale della serata, mentre fuori c'è, per quello che abbiamo potuto, per quello che sono state le nostre esperienze, se ci sono 20, 50, 100 persone sono lì perché sono volute venire lì. e questa è la sostanziale differenza, diciamo, a livello underground. Poi chiaramente più si va su, più le differenze ci sono sicuramente in un territorio come gli Stati Uniti o l'Europa del Nord, dove lì la musica effettivamente fa parte anche della cultura generale delle persone e quindi anche il genere heavy metal passa in radio, passa in televisione, passa davanti agli occhi della gente, come qui prevalentemente passa soltanto la musica pop, quindi sicuramente ci sono dei paesi dove è più facile magari fare questo tipo di musica, avere un'esposizione diversa perché fa parte della cultura generale proprio di quel paese lì e poi che ci siano differenze tra alcuni paesi piuttosto che altri, quello sì, credo sicuramente di sì, ma anche in Italia sostanzialmente quando ci sono eventi grossi la gente va, risponde però meno a quelli piccoli, proprio perché appunto parliamo di una cultura diversa, di quello che è la musica in sé per quello che è l'Italia rispetto a paesi del Nord o agli Stati Uniti, dove chiaramente è una cosa molto molto più popolare. C'è qualche artista in cui ti sei ispirato, a cui comunque vada ti ha fatto crescere anche artisticamente? Beh, come ogni membro della band ovviamente abbiamo band o artisti preferiti ai quali ci continuiamo a ispirare, quello sicuramente. Io ho iniziato ad ascoltare quando mi sono approcciato diciamo all'heavy metal, parliamo degli anni, i primi anni 90, io sono nato con band come Deptons, Fear Factory, quindi assolutamente Barton Sibel è stato uno dei cantanti che mi ha più trascinato in questa corrente musicale e più di recentemente posso dirti che mi sono legato un po' ad artisti come John Howard, cantante dei Treat Signal, e assolutamente anche cantanti come Suga o Linkin Park, Jonathan Davis dei Cornell, nonostante non sia nelle mie corde vocali, ma cerco di trarre ispirazione da questi artisti e di diciamo ricondurlo a un mio stile e di farlo mio, di trasportare quello che può essere intuizioni e caratteristiche di questi cantanti che mi piacciono, elaborarle e portarle nel mio bagaglio tecnico. Dardo, io vorrei a questo punto, a questo punto vorrei ritornare sul fatto che, un pochettino, stiamo ritornando un po' indietro, il fatto che la pandemia e tutto il 48, il casino che è successo, vi ha portato a saltare, a direzionare tutti i tempi della realizzazione del nuovo disco, chiaramente che probabilmente era previsto molto prima l'uscita. Beh, diciamo che sì, avevamo proprio iniziato a lavorarci su l'anno precedente, insomma comunque tra fine 2018 e inizio 2019, avevamo incominciato a scrivere brani nuovi e a progettare il tutto. Poi chiaramente la pandemia, soprattutto a noi, ci ha creato diverse problematiche proprio per il discorso di distanziamento e di non possibilità di incontrarci non abitando in comuni o vicini o comunque nella stessa città. Per cui abbiamo per forza di cose dovuto aspettare proprio il termine di queste restrizioni e ciò vuol dire che siamo stati un anno abbondante, anche un anno e mezzo senza quasi mai vederci di persona, senza trovarci né in sala prova né in studio e di conseguenza appunto abbiamo terminato i lavori con un anno o due abbondanti dopo e da lì lo stesso problema ovviamente per andare in studio e registrare e terminare ce l'aveva anche chi produceva perché due anni che è rimasto fermo poi si ritrova a dover ripartire con tutti i lavori, metterli in calendario, non c'eravamo solo noi e tutto questo ha portato a terminarlo sostanzialmente poco prima delle feste del Natale appena passato e poi organizzare la release con la casa discografica per il prossimo maggio. Se avessimo dimenticato qualcosa oppure vorresti dire qualcosa in particolare del nuovo album, del nuovo lavoro senza spoilerare lo stesso lavoro, cosa ci potessi raccontare? Possiamo dire che ovviamente sarà un'evoluzione come sempre dei vecchi lavori ma anche un completamento e una condivisione di quello che abbiamo comunque fatto anche dal primo debut album e sarà ovviamente come è successo con il predecessore cioè parliamo di Ashes of Fate rispetto al Most Human ci saranno delle piccole accorgimenti e soprattutto sul sound e questo perché ogni volta cerchiamo di proporre qualcosa è difficile oggi usare la parola nuovo perché c'è talmente tante proposte in giro che ormai di nuovo è difficile fare ma qualcosa di diverso e a volte si tratta magari di andare a ripescare dal passato perché staccarsi da quello che è contemporaneo a volte semplicemente ti porta anche a andare a riprendere quello che si è fatto anni scorsi o anche prima questo perché magari arrivi che ti stanchi un po' di quello che diventa il cliché del momento e se vuoi fare qualcosa di diverso ripeto è difficile fare qualcosa di nuovo basta anche variare le scelte quelle che sono contemporanee o che il mercato richiede dal momento in cui noi non dipendiamo assolutamente da questa regola perché fortunatamente o sfortunatamente non è il nostro lavoro e quindi abbiamo la possibilità comunque di decidere in realtà cosa ci piace di più fare cosa ci piace di più proporre rispetto a quello che sono gli standard del mercato quindi sicuramente sarà un disco diverso sul piano della produzione sonora sempre comunque molto accattivante e massiva quello assolutamente e ci saranno degli elementi musicali nuovi ci sarà in alcuni brani un modo di cantare diverso da quello che era il nostro il nostro modo abituale di fare le cose negli altri due album e quindi in questo ci siamo anche molto divertiti perché se non ci si diverte anche a variare un po' è un po' la prima cosa che serve a una band per andare avanti quindi sicuramente ci saranno delle novità che chi ascolterà attentamente e non si soffermerà al primo ascolto sono sicuro che noterà e speriamo che siano apprezzate e che restino affascinate anche da queste piccole novità e accorgimenti che abbiamo portato sul nuovo disco beh assolutamente salutiamo tutti gli ascoltatori del momento ovviamente ringraziamo te per lo spazio concesso e questa opportunità e ovviamente ci si trova su tutti i socials quindi facebook, instagram assolutamente spotify dove andarsi ad ascoltare gli album precedenti e ovviamente le nuove uscite in programma e dove comprare il merch vecchio e nuovo assolutamente ai nostri concerti prima di tutto che avremo in programma il mese di aprile al Firenze Metal sabato 15 aprile e il 13 di maggio release del nuovo album a Modena per chi fosse nelle vicinanze o ascoltatore delle nostre parti e successivamente avremo due weekend tra Svizzera, Germania e Austria a fine maggio e inizio giugno poi assolutamente setteremo online il nostro store con il materiale nuovo e quindi sempre seguendoci tramite i nostri canali principali facebook, instagram e anche spotify attiveremo dei link dove andare ad acquistare online i nuovi disco e le nuove magliette e tutto quello che è il nuovo merchandise Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro e due il centro anti Grazie a tutti.